In Toscana sono 120 gli iscritti al Movimento 5 Stelle che si sono autocandidati in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo quanto si apprende, tra i nomi di coloro che si sono fatti avanti sul sito del Movimento, non ci sono le consigliere regionali Irene Galletti e Silvia Noferi. La raccolta delle autocandidature aperte al 5 agosto si è chiusa l'8 agosto senza possibilità di deroghe. Ora i 120 nomi toscani insieme a quelli arrivati dalle altre regioni sono al vaglio dei vertici nazionali che stanno valutando la conformità delle candidature con i requisiti richiesti dal Movimento. Il 16 agosto poi sono in programma le parlamentarie, ovvero il voto online da parte degli iscritti per scegliere i candidati alle prossime elezioni.